Per me è il mio sogno, davvero il mio sogno è parlare italiano perfettamente come parlo arabo o come parlo inglese anche perché la prima volta che sono stata in Italia ero a 18 anni, sono stata a Roma, dopo due ore ho pensato senti, sei stata qui prima, sei stata qui prima, ho pensato che io è italiano, sono sicura che sono italiana. Per l'ultimo dieci anni io studio italiano mezz'oretta ogni giorno, ogni giorno mezz'oretto compro l'internazionale, il magazzino e leggo ma è difficile per me parlare italiano tutto al tempo. Quindi ci sono italiani che non parlano arabo o inglese. il mio italiano diventa migliore, ma quando c'è una persona araba da fronte a me, la mia stessa funzione in due linee, araba e inglese, c'è una voglia di cambiare per l'arabo o con l'altro, ci sono amici italiani che io parlo in inglese con loro. Speriamo che arrivi il giorno che posso parlare in italiano perfettamente. E questo è lo che dice, il veristida è giving to the wild growers che hanno risponduto a live plans, pignolo, cipottino, ribolla, teselecchè, plentecchè. Non even knowing how to pronounce these words, Prima di tutto penso che gli italiani naturalmente piacciono il palestinese, c'è il basse, perché in America, per esempio, il mio libro non sono molto conosciuto in America, perché gli americani non sanno niente della Palestina e loro che fanno del palestino pro-israeliani. In Italia penso ci sono tre cose. Il primo è che gli italiani piacciono il palestinese, conoscono il palestinese, appoggiano il palestinese. Qui c'è un basse. La seconda cosa è che io piaccio l'Italia molto. E io penso quando tu piaci una persona e l'altra persona alla fine piacciono a te o a te. Perché io dico sempre che la cosa che viene dal cuore entra dal cuore. Per esempio, ora non è no price per me, ora l'Italia loves me. I love Italy e in questo momento Italy loves me. Grazie. Grazie.